Ciao a tutti, sono Cristian Salvador, della compagnia SalvaMac e sono qui per presentare il nuovo SalvaPush 2000. Il SalvaPush 2000 è un risultato ottimizzato. Cosa significa? Quando si tratta con il sistema di corte tradizionalmente, puoi salire molto dinero, puoi ridurre il vostro costo di corte. Praticamente è una macchina di corte, come ho detto da molti tempi. Prima di tutto, perché la macchina fa la combinazione del migliore e del migliore di corte per corte. Quindi, comparando con un operatore, puoi salire circa 5-10% del timbre che puoi cortare. E questa è una grande quantità all'inizio del mese. Un' quantità di acqua che può cambiare in quantità di acqua. Secondo, perché ridurre la quantità di persone. Normalmente, per avere una produzione migliore, come questa macchina, bisogna 3-4 persone. Qui, solo uno. Due pessimistici, dipendendo dalla qualità degli operatori. Quindi, almeno minus 50% dell'operatore è qualcosa che aiuta a lavorare meglio. Poi, anche la scelta dell'operatore. Normalmente, se si corta con un sistema di corte tradizionale, bisogna di molto buone qualità di operatori, che diamo la spesa, che funzionano in modo sicuro, e che devono avere molta esperienza. Qui è molto facile. L'operatore ha solo preso start e marco il timbre, e la macchina farà tutto. Quindi, questi alberi hanno un operatore molto, molto facile. Finalmente, la scelta, perché, comparando con il sistema di corte tradizionale, sono abbastanza pericolosi. Qui è praticamente impossibile avere un problema sicuro. Quindi, pensate al futuro, andate in avanti, due passi in avanti, e salva Mark, salva Push 2000. Grazie. 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 Grazie.